Federica Ronchi di ClearPay. In che modo ClearPay si differenzia dai competitors? ClearPay è una soluzione di pagamento by now pay later o split payment, cioè una soluzione che il merchant, il nostro e-commerce, integra nel suo e-commerce e permette all'utente finale di pagare il prodotto che vuole acquistare in quattro rate, quindi l'utente finale paga il 25% del valore del bene subito al momento dell'ordine e le successive tre rate in momenti successivi, mentre il merchant riceve entro 24 ore l'intero importo del valore del bene. Ovviamente per l'utente finale la soluzione è completamente gratuita, cioè non paga interesse e non paga costi accessori. Quali sono le principali differenze e le caratteristiche di ClearPay rispetto ai concorrenti. Dal punto di vista di prodotto proprio il fatto di offrire una soluzione a quattro rate anziché a tre rate consente all'utente di pagare un po' meno nella prima rata. Questo ingaggia decisamente in maniera migliore l'utente che quindi è più propenso a convertire la sua visita in un ordine. Questo ha un beneficio diretto in termini di tasso di conversione per quanto riguarda il nostro merchant. C'è poi da sottolineare il fatto che sull'utente finale non vengono fatte verifiche sul suo credito, quindi non viene fatta una verifica di elegibilità del credito. Se da una parte questo aumenta il rischio che ClearPay si accolla in termini di insoluto, dall'altra evita falsi positivi. Ancora una volta per il merchant questo si traduce in un maggior tasso di conversione. Ma spostandoci ora dal prodotto e volendo invece essere più concentrati sul modello di business, ecco qui sta la grande differenza. ClearPay è sì una soluzione di pagamento, è un buy now pay later, ma è soprattutto un motore di marketing, è cioè un partner per il merchant che permette al merchant di ricevere un traffico gratuito, un traffico addizionale, un traffico nuovo. Il nostro target è prevalentemente concentrato nelle generazioni millennial e gen Z, di conseguenza è un pubblico più giovane rispetto al pubblico medio dei nostri merchant. Questo ci permette di portare in dote come patrimonio all'interno della partnership con il merchant un nuovo traffico. È poi un traffico qualificato perché basti pensare che oltre 35 milioni di utenti ogni mese visita la shopping directory di ClearPay, il social network, è ingaggiata attraverso le nostre soluzioni di CRM e atterra sui siti dei nostri merchant. Quindi è un traffico altamente qualificato che atterra e arriva direttamente sul sito del nostro merchant. Come facciamo ad avere questo grande database di utenti finali estremamente ingaggiati? Lavoriamo di fatto gomito a gomito con il nostro partner, con il nostro merchant, con il nostro retailer. Sviluppiamo un calendario editoriale che ci consente di dare visibilità della collaborazione tanto sui nostri asset quanto sugli asset del merchant. Contribuiamo ad sostenere l'investimento che il nostro merchant fa nel dare questo tipo di visibilità. Infine la soluzione ClearPay è una soluzione internazionale. Noi siamo un'azienda australiana nata nel 2014 che si è rapidamente diffusa in US, in Canada, in Nuova Zelanda, in UK e ora in Europa continentale. Questo ci permette di offrire al nostro merchant internazionale una soluzione di pagamento che lo supporta in tutte le geografie dove il nostro merchant vuole operare. E siamo anche una soluzione multicanale, il che significa che la soluzione ClearPay è disponibile non solo sugli e-commerce dei nostri merchant, ma anche in store, facendo così in modo che il nostro utente finale abbia un'esperienza d'acquisto senza frizioni tanto online quanto offline.